In vita a tutti gli abruzzesi a partecipare al sit-in in programma sul Mona il prossimo 17 settembre alle ore 11 per chiedere di smilitarizzare la base di Monte San Cosimo e di destinare l'area alla protezione civile, il coordinamento di associazioni, disarmiamo la pace e disertiamo la guerra. Oggi a Pescara, presentando l'iniziativa La Stampa, i promotori hanno ricordato che si tratta del più grande deposito di armi in Abruzzo e uno dei più grandi del centro-sud Italia, situato tra Pratola, Peligna e Sul Mona, che in caso di guerra diventerebbe un obiettivo sensibile per i missili russi, con conseguente rischio per tutta la popolazione. Da mesi circolano sui social network immagini su insoliti movimenti di mezzi militari in entrata e in uscita dal deposito dell'esercito, che nel corso degli anni è stato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, ha ricordato Mario Pizzola. Ogni guerra è un crimine contro l'umanità e chiediamo la smilitarizzazione perché ogni qualvolta c'è una crisi internazionale, la base di San Cosimo è stata allertata come obiettivo sensibile. Quindi avere una base al centro di un'area intensamente popolata come la Valle Peligna è un grosso pericolo, è un pericolo reale perché tutte le volte che ci sono state delle crisi è stata la base di San Cosimo indicata come obiettivo da colpire. Ricordiamo Gheddafi nel 1986. Ricordiamo anche che appena un mese fa due navi da guerra russe sono state davanti all'Abruzzo e sono due navi che possono lanciare missili a distanza anche di 500 chilometri. Ricordo anche che questa base è stata bombardata quando era il dinamitificio Montecatini Nobel durante la guerra, è semidistrutta. Quindi noi ne chiediamo la smilitarizzazione e chiediamo la sua riconversione per la protezione civile.